A seguito della frana che ha colpito la SS 163 e la costiera amalfitana, la procura della Repubblica del Tribunale di Salerno, avvalendosi dell'apporto dei carabinieri della compagnia di Amalfi, ha individuato il consulente tecnico che si occuperà di accertare le cause che hanno portato a questo incidente. Il fenomeno dell'abusivismo edilizio e dei reati, adesso connessi annoso problema che attanaglia il territorio della Divina, è stato negli ultimi anni oggetto di un'attenzione particolare da parte dell'autorità giudiziaria e dell'arma dei carabinieri. Solo nell'anno 2020 i militari dell'arma hanno denunciato 260 persone in stato di libertà nei confronti delle quali sono stati eseguiti 39 sequestri penali con un incremento di controlli e sanzioni del 25% in più rispetto al 2019. Gli inquirenti ora avvaglieranno tutte le possibili cause dell'evento franoso verificando se ci siano eventuali responsabilità penali in capo a parti terze.